Adesso basta, insorgono i cittadini di Policiano dopo gli innumerevoli casi di furto in abitazione e danneggiamento delle tombe nel cimitero del paese. Un vero e proprio scempio a cui i residenti non sono più disposti a sottostare e così hanno convocato un'assemblea in programma il 22 gennaio alle 21 presso la sede della Polisportiva Policiano. Al centro della riunione è anche la cosiddetta strada assassina, la regionale 71. Occorre dire basta al degrado e all'indifferenza, si legge che questa amministrazione mette nel risolvere i nostri problemi. Alle continue promesse del sindaco o degli assessori di turno, l'assemblea servirà a definire mediante un documento prima e azioni dirette poi la soluzione migliore per i gravi problemi vissuti dalla popolazione. Fino adesso ci hanno preso in giro specialmente l'assessore Ringoli che con il progetto Io Conto del 2010 a Policiano erano stati stanziati 250.000 euro, soldi sicuri da spendere subito e poi per un motivo o per un altro non sono mai stati spesi. Premetto, la prima volta ha detto per il patto di stabilità, la seconda perché i confinanti non davano il permesso per poter realizzare i marciapiedi. Ecco, voglio dire, le altre due circoscrizioni, Fiorentina e Giovi, il patto di stabilità non contava per niente perché i lavori sono stati realizzati. E poi dopo di questo ultimamente ci sono stati dei furti, gli incidenti, furti al cimitero, insomma ecco siamo la gente di Policiano, è un po' arrabbiata. Io speriamo che l'assemblea che si svolgerà alla Polisportiva venga fuori qualcosa e ci sentono anche gli amministratori del Comune di Arezzo. Io ho sempre votato Partito Democratico e prima Partito Comunista Italiano. Adesso con le prossime elezioni non andrò a votare, avevo la tessera non ce l'ho più, quindi farò anche pubblicità contraria perché a me non mi si prende in giro, a me personalmente.